Sabato a Firenze, in piazza, insieme a noi, insieme alla Lega, c'era tanta gente di Forza Italia, c'era tanta gente di Fratelli d'Italia, c'era tanta gente anche del Movimento Difitto, era tutta gente che chiedono una cosa, un'unione seria, concreta del centro-destra in modo da poter dare una risposta sicuramente a Renzi, ma sicuramente anche al Movimento 5 Stelle e poter essere competitivi.